Auguri buon lavoro quindi a tutti noi e grazie dell'attenzione. Grazie mille. Per queste parole di saggezza. Quando ci siamo incontrati prima le avevo detto che mi aspettavo che ci sarebbero stati molti parlamentari presenti qui in emiciclo o collegati online per ascoltare le sue parole sagge. Sappia che ha raggiunto un record nel numero di persone che hanno ascoltato e gli applausi quantomeno dimostrano che vediamo la saggezza delle sue parole. La ringrazio molto per questo.